33 storie diverse, 33 esperienze diverse, accomunate dall'impegno concreto verso la comunità ed il nostro paese. Sono le storie delle persone che hanno ricevuto dalle mani del prefetto di Verona l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. No, non me l'aspettavo, sono stato proposto dalla presidenza della divisione Acqui, non me l'aspettavo perché... Emozionato? Sì, abbastanza abbastanza. A chi la dedichiamo? La dedichiamo a tutti i caduti della divisione Acqui e ai nonni reduci che sono ancora in vita e che resistono alle ingiurie del tempo, nonostante l'età molto avanzata di tutti quanti loro. Per una donna in divisa che cosa vuol dire? È un gran bel traguardo, sicuramente un gran bel traguardo per me, ma anche per la mia famiglia, che in tutti questi anni mi sono stati vicino e mi hanno in un certo qual modo supportato e sopportato. Lungi dall'essere una mera riconoscenza, una celebrazione, fine a se stessa, l'onorificenza della Repubblica vuole sottolineare quel mondo del volontariato, dell'imprenditoria, del sociale, del vivere civile, che quotidianamente è protagonista nel silenzio e nell'anonimato di opere di bene. Se l'aspettava, dottoressa? Oddio no, sinceramente no. Che effetto fa? È stato un bello onore, sicuramente che dedico completamente a mio padre e alla mia famiglia. Io vorrei dedicarlo alla nostra chiesa di Verona che a livello di volontariato, di impegno, ecco direi, non dico è seconda a nessuno, ma sicuramente è una terra generosa, attenta soprattutto alle fragilità, alle povertà, a tutte le situazioni che richiedono l'apertura del nostro cuore, come ci ricorda continuamente anche Papa Francesco. Pensando a questa Italia, di cui tante volte si parla male, poi scopri un esercito fatto di queste persone, delle tante che potrebbero anche essere qui. Sono tante le persone che lavorano, che lavorano in silenzio e tirar fuori poi e evidenziare questo lavoro e questo impegno è davvero molto bello, perché ci rendiamo conto che questo Paese va avanti, questo Paese cammina e cammina grazie allo sforzo di coloro che in silenzio lo fanno camminare sulle loro gambe e sulla loro fatica. Quanti a testimonianza... Quanti a testimonianza... Quanti a testimonianza...